Si prova Tutti i morning, you speak English Non so con chi sa sai I fusilli con un bocco Quando so che so con un bocco Io non so con un bocco Io non so con un bocco Cosa hai messo nel calcio Vieni la vita che vuoi cantare E poi la canta A due A due Un bocco prodotto e facciamo un po' di pubblicità a tutta la Calabria Bella Facciamo un po' di pubblicità a questa Calabria Bella Che ci appartiene Ecco, l'ova della carcina Bianca Ovarola Di dove siete? San Calogero Buongiorno signore Noi facciamo quest'altra Siamo a Taurianova Poi ci spostiamo a Rizzicone Poi ci spostiamo su Paluna Con Salvatore Rucolo che ci segue con grande affetto Dovenamente Ma dove? Fortunato Stelletano Fortunato Fortunato e senza Valentina Perché la ritroviamo a altre puntate Però tu sei bravo lo stesso Ci tengo a fare un augurio all'amico Mimmo Cavallaro che era compiuto 60 anni Auguri Mimmo Tanti auguri Un'istituzione della musica popolare Calabrese Speriamo di organizzare No, le devo dare un bel premio adesso Lei di dove è lei? Che fa nella vita? Comune Lavoro Comune 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 E che cosa fa? Sì? No Assessore Assessore No, no, no Assessore Noi siamo pronti Buongiorno signor Lei ci segue ogni tanto Sì? Però non ci sei Buongiorno Andiamo nè Buongiorno Grande mercato Grande mercato Lei di Taurianova Sì Ci segue ogni tanto Zio Pino Forever Che scherzo è Forever Scusate Grazie Grazie A dove? Ma lei ci segue però No, quando io c'è Di che non ha? Ogni sei Sì Sì Noi siamo Da 35 Scusate l'autocelebrazione Ma sui 38 anni che facciamo il mestiere Se mi piace guardatevi Se mi piace guardatevi Se mi piace guardatevi Allora dove andiamo? Ecco, ecco i dolci di Taurianova Che meraviglia Guarda qua Abbiamo la pizza di San Martino Abbiamo la sussumelle Ricoperta di cioccolato Che questo è un tipo Colotto tipo con Reggino Che meraviglia E poi tutto un assortimento Produzione Che meraviglia Chiama un compagno mio dopo Siccome mi ha mangiato dopo No? Perché qua In Calabria ragazzi Quando ti invitano L'invito è sacro Giusto? Dopo mi prendono poco Chiri Roccoco E noi che ci miniamo un ruvino Ci miniamo dopo Dopo, dopo, dopo Dopo, dopo, dopo Quelli vanno con l'amaro Si Ah quello che c'è No Ma che ne preoccupi Ma che ne vanno con quello vino? Uno, due E poi c'è lo stomatico Prodotto di Reggino Che viene consumato Sempre con l'amaro Con l'amaro Però io ci appoggio Un greco di bianco Un greco di bianco Un greco di bianco Un greco di bianco Buon lavoro ragazzi La Calabria che lavora 45 anni di attività 45 anni di attività 45 anni di attività Questa è la sua sommaria Fai l'amaro Guarda qua che meraviglia Guarda qua che meraviglia No, no, dopo, 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 dopo No, dopo, 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 dopo Guarda che bello finucchio Puglio finucchio Allora Un finucchio Mi cinginucchio Un lupino Io mi prendo un accio Che bello lupino casaccio E molto dolce Mi vorrei Puglio una tazza Il caffè Giamonelli Bravi, bravi Guarda che mandare Questi sono tutti nostri, signor Tutti di Calabria, Calabrese Comprate i prodotti calabrese Comprate i prodotti calabrese Guarda che uva Seraf Puglio tu che mi fa senso Te, ti piace? Molto attartito No, uva Un tanto Compa, questo è qua Il caccialore Ricordatevi una cosa Che l'uva calabrese Su Ha fatto i calabrese Fanno i calabrese Fanno i calabrese Giamonelli Attaccati Buongiorno signor Benedica Cipuzzi Aglio Guarda che ha comprato signor E quando E quando l'uva per te fa? No, no Per l'uva Per l'uva Per l'uva Per l'uva Per l'uva Per l'uva Ragazzi fa bene la pressione Ma va alla base Non è il caso solo No, no Su un marito mangia l'uva No E che mangia? Di tutto Che fai? Lei insegna? Che cosa fai? Estetista Lei ci segue ogni tanto Sì, sulla C Sulla C Black Ciao Grazie 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 Allora Buongiorno E vado a lavorare E lo speciale Toronto In Canada Speciale Toronto In Canada Dove è Toronto Dal vero Tutti Tappalizzate benedì La C La C Mi c'è Mi c'è Mi c'è Mi c'è Mi c'è Per caricare che cosa? Mi c'è 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 Bene 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 Allora Signora Facciamo una cosa Scusate Volevo dire Io so perché vogliamo far vedere questa cosa importante Perché La signora Tiene un portafoglio Un portazzecchino come una volta In Calabria si può fare Questa Noi parliamo della Calabria bella La può far vedere signora Gli sorti È una cosa importante Un messaggio importante Babbo Allora ragazzi ci siamo Come sta signora? Bene Che sta comprando adesso? I pomatori Sai cosa volevo dire? Chi è il pomatore bello? La Calabria Sai che volevo dire? Volevo dire questa cosa qua signora La campagna mia Che in calabria Campagna mia E di sotto Tornovo La campagna mia A Tornovo veniamo Siamo già a Tornovo Mi stanno giocando Allora volevo dire Ragazzi Siccome c'è Guarda qua Guarda qua Scusi veni Vieni Signora ci puoi vedere un attimo No Sulla te ma Sulla te ma No Mandiamo un messaggio importante Per la Calabria Non prendiamo niente Siamo già di fretta Grazie Sì Stai dicendo una cosa importante Signora scusate Volevo dire che ancora in Calabria C'è Gente che cammina Con un portafoglio Borsolino Rimane Capito che voglio dire? Io dentro il nord Che mi pesano pure a bove No Gli amici ci trovano la gente No Questo era il messaggio Grazie Mi fa Nella Prugna Ch 아까 Grazie signora Dove siamo dove siamo ? Allora guarda che cappuccio che bello Essiamo pronti Dove ci mettiamo dai facciamo questa tarantella però allora potremmo fare da qualche cosa una pezzetta solare no per fare ma facciamo una cosa io direi quando abbiamo ancora scusate sono sedici minuti 16 minuti ci sono facciamo facciamo metà se facciamo allora ce ne andiamo a rizzicone direttamente io volevo far vedere ancora queste meraviglie allora volevo far vedere il proprio guarda che il lupino guarda allora questa è la calabria che ci appartiene non mi preoccupate guardilo ma questo lupino proprio conosce la calabria sì sì questo lo vogliamo noi questo noi vogliamo far vedere vedere quindi nei mercati chiamateci perché poi intanto adesso faremo vedere anche una qualche la chiesa il comune noi abbiamo abbiamo un patrimonio qua di tanti concorrenti per uomini e donne non è un donno io proprio no ma lei ha sposato sì sì guardi qua mi hai detto che hai gruppato la moglie chi tiene un rimasto, chi tiene un rimasto? avete queste? qua in calabria ancora si cammina a quei soldi a rimanere io sto a Milano io non ho guarda che pirmatore guarda che gianni guarda che alice ti faccio il teggio alice ti faccio il teggio alice prendiamo male faccio una cosa guarda che mila guarda che mila complimenti signore per questo mercato no non mi si presta si signora mia si noi rispettiamo tutti per carità assolutamente stiamo cercando di promuovere questi mercatini della Calabria niente di più tutta cosa Serafa ti stai in se mi firmo tu abbassi che vedi le ragazze per le ragazze guarda qua noi non insultiamo nessuno facciamo solo vedere che vende lei guarda qua vabbè no vabbè ragazzi è un signo abate come si chiama un signo di iene sono tutti gli amici delle iene avete lavorato tutto avete lavorato i tassi li stanno mangiando i tassi è vero è vero è vero è vero una faccela una seconda a meno che ne andiamo qui andate facciamo una la notte è proprio ti ha preparato la casa ti ha preparato tutto preparato non ti preoccupare ma tu ci puoi dire che la pesca preparato ma sei proprio un ignorante guarda qua che meraviglia promuoviamo la calabria nel mondo ragazze a bigno senza pagare noi vediamo gratis guarda che formaggio formaggio pecorino questo è minacella che troppetta e che troppetta faccio i canzoni ah i canzoni buongiorno signora fare un saluto alla calabria ecco la calabria bella che c'è a partire ed ecco fatte con le mani ti staccati ti staccato ai dà stanno preparato il spettacolo ragazzi la vergogna della vergogna sai quale è stata che vado in quale parte della calabria ed è trovato invece della cazzosa ha trovato un altro prodotto la spray con tutto il rispetto ragazzi ma noi siamo venuti con la cazzosa ma di come chi dovete ammazzare ma quanti vino la cazzosa oggi però non bisogna bere no 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 una volta si una volta con cavallare 54 litri di un bippo sette persone benedicto Mimmo cavallo non ti ha fatto una bella pubblicità e buono salute ciao ci vediamo questo che è olio no? olio 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 hanno elaborato voglio non avete capito niente qual è il problema giusto signora buongiorno come state ci seguite voi iniziando si? grazie signora per la comprensione vabbè dove siamo? sono i calcaccia sui salsicci casalori pure dove venivano? no vabbè qua vedi questi sono casalori vedi miramò guarda che c'è senza prendi vai presa siamo pure una poco tarda capisela che se no se andiamo da qua allora noi siamo ecco adesso andiamo al dopo e finiamo lì la puntata giusto presa diretta però mi è venuto a vedere poco poco su fino adesso e ora il giro è finito l'ultro di gli stili e ti pezzerina giovana bella che meraviglia questo è bucico allora ragazzi poco fa salvatore poco fa ricordando questo questo nostro nostro signore vittoria signore venite aspetta abbiamo abbiamo saluto questo nostro grande amico che purtroppo ci ha lasciato un grande artista il suo rocco del sud quindi un applauso nell'alto dei cieli veramente con tutti l'abbiamo incontrato a toronto abbiamo incontrato rocco del sud a tutti i suoi parenti un bacio grande allora andiamo in piazza allora ragazzi oggi ci aspetta rizzicoli rizzicoli facciamo doppia il triplo il triplo salto mortale facciamo serate fortuna allora i nostri progetti i vostri progetti adesso facciamo un po che siamo nella strada no niente con diciamo la collaborazione sia tua che di natale stiamo realizzando per le per i borghi più belli della calabria queste puntate appunto di nella trasmissione permette signora che dà la possibilità diciamo a noi appunto di visitare ogni borghe adesso oggi ci troviamo nel reggino magari la settimana prossima faremo il cosentino il catanzarese cercheremo di abbracciare tutti salve signora ecco questo ci pede ma passano ma patate chi ci ha usato come stai questi borghi questi sono le viuzze di questa nostra grande e bella città tauriano ora signora che stai si chiama lumacò il lumac il lumac la pasta della pasta e noce regolosamente in calabria signor sabbegna mangiate su gratis che caspita come le cucinate voi come le cucinate questi sono i conchigli grazie signora mia un bacio grazie grazie perché ragazzi in questa e noi facciamo vedere tutto dalla caro natale centofante produttore è bello vedere tutto in presa diretta ragazzi questo è molto importante perché il assessore tu sei assessore guardate guardate come sono andò ci sono guardate le i ferriati una volta no quindi questa è la storia questa è la parte antica di di allora intanto ci divertiamo noi tanto ci divertiamo noi appunto facciamo un grande saluto a tutte le persone che ci ascoltano che sia nella provincia di cosenza ai nostri allievi miei e di valentina anche a cui insegniamo strumenti della nostra tradizione che portiamo avanti da un paio d'anni poi ricordiamo anche la vostra pagina facebook perché è molto importante siete seguitissimi su fortunato stilettano e valentina donato abbiamo la pagina facebook quindi se di vostro credimento cliccate mi piace vedrete anche il link delle puntate lì quindi potete seguirle anche da lì collegatevi anche sul più giugliotti fan club quindi noi siamo una collaboriamo insieme perché ci piace questa è chiaramente un'altra strada no andiamo 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 direttamente al comune ragazzi quasi lavoro in presa diretta e londana buongiorno popolo buongiorno popolo un pannente chi ti dica da rifrangente ragazzi per tutti quelli che volessero seguire il nostro il nostro reportage dal 20 dov'è sarà fino scusate da giorno 20 fino a 4 5 quando saremo in onda perché mi chiedono sempre a me allora allora fortunato qual è il segreto segreto è collegarsi tutti i giorni alle 14 e 30 e poi in replica la sera bravissima allora per adesso abbiamo giovedì sabato e domenica alle 23 e 30 da lunedì a lunedì ogni giorno alle 14 e 30 quindi le puntate andranno tutto questa è la chiesa del questo facciamo un augurio a chi sta poco bene per una pronta guarigione che sia un buone feste per tutto questo lo diciamo con grande gioia e affetto quella di polsi mi ha fatto il miracolo a me la madonna di polsi ma la madonna una non è che la vogliamo allora scusa facciamo una cosa se la fia scusa quando quando manca allora aspetta quando mi trovo abbandonata sai maria di la montagna mi vota e chiama pui cara ricina mia ricca e potenti fregati non ma vi muro mali bovaru felici centramenti musulanti potiti consulà e viva maria bella bella questa bella sabato questo è proprio il canto popolare proprio tipico ma andremo alla madonna di polsi ci andremo se che se la facciamo con piacere perché vuol dire che si ingassa quando abbiamo divenute allora io farei vedere entrerei in chiesa però entra solo solo la camera e noi aspettiamo qua questo è un saluto a tutti i calabrese o queste immagini che sarafino farà è una un augurio per tutta la calabria tutti i calabrese che che vivono fuori calabria a tutto questa è a tutti gli italiani che vivono fuori il mondo anche giusto e a tutto il mondo perché sia di pace e di serenità ma mi metti a cianci a poco ma comunque chiusura quest'altra puntata doveroso farlo in questa grande piatta natale il casano già che sta lavorando vogliamo chiudere nata perché abbiamo la sua puntata poi dare il sicone questo inno a me piace questa questa ma la cadenza è no no e vicenzo e il marcio allora un inno alla madonnina che ci protegga tutti questa bella calabria di buona salute innanzitutto e se c'è più lavoro madonna per tutti quanti va proprio buona vai andate salutiamo madonna ambeata oi groli usa signor honorata che noi camina che ti camina mu ti lo dà mu grande regina e maduriamo su bello bambino che porti in braccia ambeata maria puto madonna di la montagna guarda accuccianti e così lagna guarda la fredda e l'ammalati guarda le povera i carcerati senti la mano di su posto al taru a cui ti cerca aiuto e riparo fanci la grazia a cui è carcerato mentiti tu e poi l'avvocato e la madonna ti vota e ti dici vai a ti vendi a ti sicuri che io la grazia concedo a onde un dici cercato a confide e camori i carcerati finita la pena vanno a madonna di la montagna vanno in chiedendo madonna mia se noi pregamo pregamo per te domani alle quattordici e trenta sempre sulla c canale diciannove grazie a domani a a a a varia a a a a a a a a Grazie a tutti.